La Sasseri Sportiva piange giovanino Giano, ex calciatore professionista, da sempre sui campi di calcio, dove si occupava del settore giovanile, oltre a condurre l'azienda di famiglia. Il dirigente ha i 47 anni, padre di un bimbo di un anno, ieri sera è andato in ospedale nonostante il pronto intervento dei medici e ha cessato di vivere. L'autopsia cercherà di dare risposte ad una tragedia improvvisa che lascia a toniti tanti amici del mondo dello sport, in particolare del calcio sassarese, dove era prodato negli anni 80.